Gentili telespettatori, buona giornata. C'è un'ipotesi che è quella del razionamento del diesel, quello che si mette nelle macchine, nei camion. Si potrebbe proprio andare incontro a un razionamento se la Russia taglierà le sue esportazioni con l'Europa del 15%. Vediamo che cosa potrebbe accadere. Intanto quei 25 centesimi di taglio sui carburanti a partire da mercoledì 23 marzo è già una buona notizia, quindi da oggi alle pompe di benzina il prezzo dovrebbe essere più basso di 25 centesimi. Quella cattiva è che una parte degli automobilisti potrebbe incontrare difficoltà con il diesel. Lo scrive il Financial Time spiegando che i mercati internazionali dovranno affrontare una stretta sul diesel con l'Europa più suscettibile a una scarsità sistemica che potrebbe comportare il razionamento della benzina come hanno fatto sapere i principali commercianti. Il capo di una delle più grandi case di acquisto e vendita di merci e il più importante commerciante imparziale di petrolio hanno stimato che fino a 3 milioni di barili di petrolio al giorno potrebbero essere tagliati dalla Russia a causa delle sanzioni occidentali in seguito alla crisi internazionale. L'allarme è stato lanciato dai leader delle aziende durante una riunione al FT Commodity International Summit a Lausanna in Svizzera. Il fattore, dicono, in cui tutti sono coinvolti può essere il diesel. L'Europa importa circa la metà del suo diesel dalla Russia e l'altra metà dal Medio Oriente, afferma il capo della straine olandese di petrolio VITOL, con sede in Svizzera. Quella carenza sistemica di diesel c'è. Queste importazioni implicano che le forniture russe rappresentano circa il 15% del consumo di diesel in Europa. Il maggior consumo di diesel rispetto alla benzina in Europa ha contribuito a creare carenze del super senza piombo. Aggiungendo che le raffinerie potrebbero aumentare la loro produzione di diesel, ma con l'alto prezzo di costi maggiori a carico di diverse merci derivate dal petrolio per sostenere la fornitura. Da qui la possibilità che si arrivi a un razionamento non è esclusa. Il cofondatore e presidente di Gunvor Group, Thornquist, questa azienda con sede a Ginevra, dice che il diesel non è solo uno svantaggio europeo, è uno svantaggio mondiale. Lo è davvero, dice. Anche afferma che i mercati europei dei combustibili non stanno funzionando correttamente perché i commercianti hanno dovuto far fronte a enormi richieste di denaro da parte delle banche per coprire posizioni di copertura. Se è vero che la Commissione europea per adesso non ha messo un veto all'import dei combustibili russi, nelle ultime settimane sono comunque diminuiti gli ingressi da Mosca. Come si legge poi sul Corriere della Sera? I gruppi europei, tra questi gruppi che hanno tagliato gli acquisti dalla Russia, c'è la Shell, l'Eni, la Total, Repsol, Galp, BP. Per queste ragioni le scorte di petrolio e diesel sono crollate ovunque e si trovano ai minimi stagionali da 15 anni a questa parte. In questo contesto, dice, i raffinatori di petrolio saranno costretti a ridurre drasticamente la loro produzione di diesel con un effetto domino devastante in gran parte d'Europa, Italia compresa. Il diesel in Italia è molto forte, quasi tutte le macchine vanno a diesel, sono poche quelle che vanno con la benzina classica, mentre in altri paesi il diesel quasi non c'è, si utilizza pochissimo o solo i mezzi da lavoro utilizzano il diesel. L'Europa dipende quindi fortemente, soprattutto l'Italia, dal diesel, perché io credo che oltre l'80% delle macchine vanno a diesel. Ormai è un diesel evoluto, non è il diesel di 30 anni fa. Il diesel di oggi non fa neanche rumore, non ci si accorge nemmeno che la macchina e i diesel con quel classico non ci si accorge nemmeno. Il diesel che era nato anche per risparmiare, perché costava meno della benzina, alla fine cosa è successo? Tutti comprano il diesel e quindi il prezzo automaticamente tende a salire per le leggi di mercato della domanda e dell'offerta. In questi giorni di crisi addirittura il diesel ha sorpassato il prezzo, in alcuni casi il prezzo della benzina. Questo per farvi capire come il mercato in generale sia un po' impazzito. Bene, o male. Si parla di razionamenti di diesel e anche di tante altre cose. Io spero realmente che questa crisi internazionale possa finire presto, perché non conviene a nessuno, a nessuno, neanche agli attori principali, non conviene a nessuno. Anche perché questa crisi internazionale si è fermata e è in stallo. Quindi, e quindi, come dice Salvini, no? E quindi, ecco. Pertanto non conviene a nessuno. Io spero che nell'arco di pochi giorni, pochissime settimane, si possa risolvere la crisi internazionale. Dall'altro lato si possa andare verso un'estate senza più pensare al covid, il covid di c'è, il covid di qua e di là. Speriamo almeno di poter fare un qualcosa di più o meno sereno quest'estate. Almeno due o tre mesi di tranquillità, di pace, chiamiamola così. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi auguro buon proseguimento di giornata. Ricordatevi che qua, nella community del canale, ci sono dei link, dei sondaggi, ai quali potete partecipare, rispondere, commentare. E poi c'è un altro canale in YouTube che si chiama Teleitalia Seconda Rete, dove trovate video di politica, di notizie, di fai da te. Mentre poi questi video di Facebook, dice di YouTube, dopo qualche ora vengono condivisi nella pagina di Facebook che si chiama Teleitalia. Così se vi sono interessati li potete condividere con chi volete. Grazie nuovamente a tutti, buon proseguimento di giornata, ci vediamo tra una ventina di minuti per un altro video. Arrivederci. Grazie.